Sono molto piccoli, quindi stiamo pensando una partita alle volte e vogliamo continuare così. Prima hai detto che pensiamo partita dopo partita, lo spugnetto è ancora prematuro, però questa è una vittoria storica. È una partita che segna la storia della Roma nel campionato italiano. Che soddisfazione è? Sì, sicuramente, ma non giochi per vincere 9 partite di fila, giochi per vincere un titolo, giochi per giocare le Champions, giocare in Europa. Queste sono le cose più importanti, quindi no, ci fa piacere che adesso abbiamo fatto una serie molto importante, ma, come ho detto, sappiamo che le immagini tra vincere, pari 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 e pedere sono molto piccoli, quindi dobbiamo mettere tutto ogni volta che entriamo in campo, dobbiamo pensare solo a quella partita e poi i conti li faremo alla fine. A chi dedichi il gol di quest'oggi? Che deve fare per riconquistare un posto da titolare? Guarda, è un campionato che dura 38 partite, ha bisogno di tutti, quindi, in vista, c'è, ci ha fatto vedere che da partita a partita lui farà, c'è, c'è, diversi cambi, c'è, poi tocca a noi a trovarci, trovarci pronto quando, quando tocchiamo, quindi no, io adesso cercherò a dare sempre, e cercherò a dare tutto per la squadra, come sempre, e poi questa è la prima partita. Grazie.